Sono strumenti che ci consentiranno di avere quella prossimità che il DM77 sponsorizza nella logica di pensare alla casa come primo luogo di cura. Teleassistenza, nuove opportunità per l'assistenza infermieristica territoriale. Sarà questo il tema, il centro dell'incontro, il programma per il prossimo 13 giugno all'auditorium Pieraccini dell'ospedale San Donato di Arezzo. Le aspettative delle persone si innalzano sempre di più, le difficoltà che abbiamo nel coprire tutti i territori, soprattutto in un territorio come questo, molto variegato dal punto di vista oro, geografico, infrastrutturale, impone l'utilizzo di nuove tecnologie come il teleassistenza e il telemonitoraggio. Fondamentale per collegare i professionisti e renderli più vicini alla popolazione anche in territori più disagiati. Il tutto sarà reso possibile grazie ad una donazione dei Rotary Club della Rietruria, 15 tablet, 15 ring light ed un monitor parametrico. Che saranno in collegamento con la centrale operativa e con tutti i professionisti, anche infermieri specialisti, proprio in lesioni da decupito, che chiaramente rappresentano la cronicità di tanti pazienti a casa propria. Questo significa dare una risposta più immediata e più veloce a queste famiglie. La Rotary non è vicino agli infermieri in particolare, è vicino ai cittadini, ai bisogni della popolazione. Questo è quello che ci muove e ci fa fare i service che durante l'anno proponiamo.